Arcode è un'applicazione per smartphone che verrà lanciata sul mercato i prossimi giorni. È un'applicazione legata alla realtà aumentata che permette di aggiungere contenuti interattivi contestualizzati su immagini stampate. Sostanzialmente è un contenitore cross mediale che aggiunge un layer di multimedialità a tutto ciò che è stampato. Il nostro slogan è rendiamo la stampa interattiva. All'interno di Arcode siamo qua oggi a The Others perché abbiamo attivato un manifesto, una call agli artisti perché loro possano sperimentare l'utilizzo della nostra tecnologia nel loro pensiero creativo. L'Art Project è una palestra creativa per gli artisti. Ogni mese gratuitamente verrà messa a disposizione il nostro know-how e la nostra piattaforma per presentare un artista che ha reso interattivo le proprie opere. Questo è il rapporto di un artista tedesco che vuole raccontare i significati nascosti dietro al pezzo di carne che mangiamo. E quindi con molta ironia vedi il pezzo di carne e sopra un giocattolino di plastica. C'è la mucca per la bistecca di vitello, la gallina per la bistecca di pollo e il maialino. L'idea è stata quella di accoppiare una stampa tradizionale litografica con un contenuto digitale assolutamente innovativo. La tradizione è il futuro, non esclusivo, nel senso che non esclude il vecchio ma che lo integra. La tradizione è il futuro, non esclusivo, non esclusivi, non esclusivo, non esclusivi.